Ragazzi, giusto un piccolo appunto, se siete dei cacciatori e volete solarvi il Nexus, sappiate che la tecnica del salto sulle piattaforme che vi ho fatto vedere nel video precedente non funziona, perché anche se si usa il triplo salto, che comunque raccomando, come vedete non riuscirete a raggiungere quella piattaforma. Allora, grazie alla scoperta del mio amico Xiner, che vedete lì in alto, se andate un po' più avanti su quest'altra piccola piattaforma, poco poco più avanti, riuscirete con il triplo salto a raggiungere lo stesso la piattaforma, anche se siete dei cacciatori. Lo faccio rivedere al Relentatore, vedete il mio altro amico Shadriper che sta facendo il salto classico che vi ho fatto vedere, con il triplo salto riuscirete ad arrivare sulla piattaforma. GG a tutti, buona solata!